Non è che si vuole fare mera polemica, però è evidente che faccio una battuta per sdrammatizzare che l'acqua non va d'accordo con Seri, non va d'accordo facendo un piccolo accenno al caro bolletto dell'acqua e non va d'accordo nemmeno all'Arzilla in quanto la decisione tardiva di porre il rimedio al problema del ponticello ha causato una pessima figura a conferma della scarsa programmazione dei lavori. La problematica sorge da un anno a sta parte perché si sapeva che si doveva fare un intervento e non lo si è fatto, alla fine ci si è messa una pezza che è più brutta del buco, tra l'altro ho avuto modo anche di fare delle verifiche e mi hanno confermato che un ponte Beli era a disposizione della provincia di Pesaro e che la provincia in altre occasioni, mi hanno fatto l'esempio sul Bevano di un po' di anni fa per la verità, si sono applicati dei tubi di metallo di grande dimensione, almeno un paio di metri di diametro, sul quale poi sono stati fatti dei ponti. Parliamo di materiale in acciaio e quindi l'intervento pressoché definitivo, quantomeno a livello di sicurezza. Qui c'è un ritardo increscioso di tutti i lavori del Lido, perché comunque non ci dimentichiamo che a pochi metri dal ponte dell'Arzilla c'è la vasca di prima pioggia in Piazzale Amendola che è ferma e anche lì si sono fatti degli errori perché ancora i lavori sono indietro, lavori che con le tubazioni arrivano fino a Via dello Squero che è stata bloccata anche lì in tutti questi mesi anche l'accesso sul Ponticello, quindi come dire, in complesso se si dovesse giudicare dall'operato sull'acqua questa amministrazione è assolutamente da bocciare.